Lascio la parola a Federico Magnifico che sicuramente vi illuminerà. Lei è medico e quindi è esperto della terapia del dolore e della riabilitazione degli sportivi soprattutto. Quindi si sa benissimo che gli sportivi sono sempre acciaccati. Certo, si sa benissimo che gli sportivi sono sempre acciaccati e il tentativo della moderna riabilitazione è quello di trovare un equilibrio nelle terapie che consenta di ottimizzare le prestazioni e nello stesso tempo di riuscire a ridurre sia l'uso di farmaci, che sono estremamente dannosi per lo sportivo e anche per noi esseri normali, sia l'esagerato uso di tendenze fisioterapiche singole, individuali. C'è la tendenza ad usare, dico cose molto ovvie, il laser, la tecar, tutte ottime tecnologie, però per avere i migliori risultati bisogna avere un lavoro di equip dove dobbiamo prendere il meglio di ogni tecnologia. Quindi in questo caso il tappetino misa ci permette di diminuire spesso le giornate di terapia dei pazienti con terapie classiche perché è una specie di cura domiciliare, un'autocura. Noi lo usiamo in istudio in abbinata alle terapie più moderne e poi il paziente se lo può portare a casa e prosegue l'interterapeutico con un miglioramento importantissimo. Noi lo usiamo in abbinata alle terapie più moderne e poi la terapia più moderna. Noi lo usiamo in abbinata alle terapie più moderne e poi la terapia più moderna.